Operazione dei carabinieri sul territorio ebolitano. Dalle prime ore della mattina i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di tre persone in concorso tra loro ritenute responsabili di tentate estorsioni e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso e per due di loro anche del delitto di calunnia. I provvedimenti da un'indagine avviata a maggio dopo una denuncia di due commercianti ebolitani. L'attività investigativa del nucleo investigativo del comando provinciale della compagnia di Eboli ha portato all'acquisizione di gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre soggetti contigui al clan Maiale. È emerso che lo scorso 8 maggio gli indagati, fra i quali figura Giovanni Maiale, nipote dell'omonimo clan, hanno posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di due titolari di un supermercato ebolitano. Gli indagati hanno intimato di farsi consegnare dalle vittime ogni mese dei soldi ed hanno aggredito anche fisicamente uno dei commercianti con lesioni guaribili in 20 giorni. I malviventi hanno tentato di sviluppare le indagini, infatti due di loro, che dovranno rispondere di calunnia, si sono recati presso la stazione di carabinieri di Eboli, dove hanno sporto querela per lesioni personali nei confronti dei due proprietari del supermercato, con cui avevano avuto una colluttazione, dichiarando falsamente di essere stati vittime di minacce ed aggressione. Le immagini del servizio di videosorveglianza nel negozio hanno dimostrato senza ombra di dubbio che i fatti si erano svolti diversamente, e precisamente come detto dei gestori del supermercato. Infine, nel corso delle indagini è stata documentata la disponibilità da parte di Giovanni Maiale di una pistola illecitamente detenuta e portata in luogo pubblico.